Musica I signori desiderano, io vorrei un gelato Un gelato per la signorina e un cognac per me Eva Sai Eva, una signorina non dovrebbe mai ordinare direttamente Dovrebbe chiedere al suo cavaliere ciò che desidera Eva Eva Che c'è? Ti sei stancata della mia compagnia? Oh no, è che mi stava guardando Molti ti guarderanno Ti accadrà spesso, non meravigliarti Ma perché? Ma perché tu sei molto carina E quindi gli altri mi invidiano Oggi vedi, tu sei la mia piccola dama E io non ho intenzione di dividerti con nessuno Mangia il gelato adesso Grazie Grazie a tutti.